Il dibattito delle idee innescatosi in questi ultimi giorni sulla soppressione del Tribunale Melfitano richiede tanto equilibrio e tanta lucidità nell'affrontare la questione. Qualcuno, come sempre capita, tenta di addebitare strumentalizzazioni politiche in vista di appuntamenti vari. Il tema del soppresso Tribunale di Melfi è stato posto all'attenzione del Consiglio regionale e della Giunta con una mozione votata alla unanimità non per un tentativo illusorio dettato da ragioni propagandistiche ma tenendo ben in mente uno strumento che si è presentato neanche due mesi fa, il decreto dei Ministeri della Giustizia e per il Sud della coesione territoriale con il quale è stata costituita la Commissione interministeriale per la Giustizia del Sud che potrà valutare una serie di proposte provenienti dai territori, valutare alcune criticità ed intervenire. Lo afferma il consigliere del Movimento 5 Stelle Leggeri che aggiunge sono sicuro che il Presidente Bardi si stia impegnando nel portare presso i Ministeri competenti le istanze insite nella mozione approvata qualche settimana fa.